...la confraternità del tantissimo raccoglamento di Odieto... ...i coltori della Sagra Pietra di Bonitena... ...l'attacco in modalità... ...i l'attacco della Sagra Pietra... ...in quale la Sagra Pietra di Bonitena... ...i non ho capito... ...una parte del bambino... ...i non ho capito... ...e non ho capito... ...e non so. ...due... ...e non lo faccio... ...e non lo faccio... Grazie. Grazie.